e per te sapere? la torbiera? andiamo sulla, rifacciamo quindi cos'è? la balotta dei koren, il monte, non mi ricordo, Cognolo, più? la torbiera, il barco, sembra che non fa più e abbiamo anche un settaggio su per 4k, in realtà questa è anche 5k un po' scura, alla prima rampa qualcuno dissente già ed eccoci su mica hai detto che spianava rifugio al mici 9 ore 20 avevano messo brutto tempo, piogge temporali, un caldo caldo bestiale eccoci a pian delle viti terreno 1bc0 eccoci alla madonna del disperso il sentiero non è mai troppo lungo, se al tuo fianco è un amico ecco la madonna del corno ecco la madonna del corno ecco la torbiere da questo momento è ampia, non è più superviore, vediamo nuovi settaggi possiamo o andare alle torbiere o sopra quel sassolo anche se l'ho fatta anche qui è troppo caldo, qualcuno mi fa tagliare il golem adesso giù verso la madonna del disperso sempre più giù testo sulla corsa com'è eravamo sulla crocina e adesso si va giù lì sotto questo è san pietro in lamosa verso la riserva naturale del sevino ed eccoci all'ingresso della riserva naturale terbiere del sevino qui si paga il ticket d'ingresso ah è 2 euro diventato 2 euro sì, d'ingresso 2 euro printing in progress pagato con la carta di credito biglietto pagato siamo compliance con le richieste scan e liston siamo nel parco sopra di noi la croce dove eravamo prima hai bisogno di un'informazione te la dà niente uccelli, niente ragoste oggi come è possibile? e dopo un corso di ornitologia gli ho spiegato come convivo con i piccioni a casa ecco c'è il centro accoglienza famoso USA e appena detto cosa hai detto eh tanto tornero tornero e neanche una muta l'abbiamo vista tornero andiamo sulla crocetta il santuario ecco c'è l'uscita della riserva naturale che viene tra l'altro viene alza grazie a tutti